. Soleil sorge e Luca Onestini in crisi, Giulia Latini si difende. . Giulia Latini sbotta sui social, la dischiarazione su Soleil sorge e Luca Onestini. . 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 Giulia ha voluto rispondere su Instagram a tutti gli other, dichiarando senza tanti mezzi termini. Io sono stata tradita in passato e ho sofferto non poco per questa cosa quindi non potrei fare niente di simile e? Ma cos'è successo tra Luca e Giulia? Soleil sorge e Luca Onestini nella bufera, parla Giulia Latini. Soleil sorge, nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, ha dichiarato di essere venuta a sapere che Giulia Latini e il suo fidanzato Luca Onestini si sono scambiati dei messaggi su Instagram a sua insaputa. . Una versione che ha trovato la conferma di quest'ultima, la quale l'ha rivelato nell'ultima puntata del programma web di Alfonso Signorini. Motivo per cui la bella ragazza di origini americane ha dichiarato dalla d'Urso di avere diversi dubbi perché delusa e sconcertata. . Ma non è finita qua perché ha anche attaccato duramente il fratello del suo fidanzato, il quale l'ha criticata aspramente in questi giorni perché è stata sorpresa in macchina insieme a Marco Cartasegne. . Ma non è finita qua perché Soleil ha anche avuto un malore lunedì scorso ospite al grande fratello V per sostenere il suo fidanzato. Il motivo? In pratica asserito di aver lavorato molto in questo periodo e di essere assai stressata. Insomma, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Soleil non faccia discutere i tanti fan. . E dopo il pianto a pomeriggio 5 perché è venuta a conoscenza che Luca ha tenuto i contatti con Giulia a sua insaputta, ci saranno altri clamorosi colpi di scena su questa intricata faccenda? . .